Signor Palumbo, potresti diciamo qualcosa sulle storie e sua storia? La storia comincia nel 1998, quando la famiglia di Antinori decide di investire qualcosa in Apulia. La famiglia di Antinori ha deciso di acquistare questa famiglia, che significa il rischio delle regioni Apulia, perché l'Apulia aveva perduto un po' di parte della storia della sua storia. La famiglia di Antinori ha deciso di acquistare un'altra famiglia, che è locata in Salento. L'Apulia avevano due le zone più importanti in Apulia, per quanto riguarda i vini. L'altra è la zona da Castel del Monte e l'altra è in Salento, tra Lecce e Brindisi.